Mi chiamo Antonio Gasbarrini, sono professore ordinario di gastroenterologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dirigo l'area del Policlinico Gemelli, Medicina Interna, Gastroenterologia e Oncologia Medica e nello specifico dirigo l'unità operativa complessa di Medicina Interna e Gastroenterologia. L'area che dirigo è un'area molto complessa, è chiaro che la mia mission è quella di sviluppare la gastroenterologia o per meglio dire tutto ciò che ha a che fare con le malattie dell'apparato digerente. L'area che abbiamo messo in piedi nel nostro Policlinico Gemelli è un'area molto complessa. Pensate già ai nomi, Medicina Interna, Gastroenterologia e Oncologia Medica, già questo vi fa capire che di fondo abbiamo a che fare con le patologie infiammatorie e degenerative dell'apparato digerente con un grande focus sulle patologie oncologiche. L'importanza di avere la medicina interna all'interno della nostra area è perché ricordiamoci sempre che una buona parte, direi la maggioranza, dei pazienti con malattie dell'apparato digerente che entrano dal Gemelli ci entrano dal circuito dell'urgenza e qui la prima grande distinzione tra i due mondi che trattiamo nella nostra area. Le malattie urgenti, le malattie acute, quindi tutto il flusso dell'urgenza per farvi capire l'addome acuto, la diverticolite acuta, la pancreatite acuta, l'insufficienza epatica acuta, il sanguinamento digestivo, tutte le complicanze dell'oncologia e dall'altra parte tutte quelle che noi chiamiamo patologie lettive, cioè in qualche modo tutte quelle patologie che ci caratterizzano e che sono le patologie che colpiscono tutto l'apparato digerente e quindi le patologie dell'esofago, quello dello stomaco, del tenue, del colon e le patologie dei cosiddetti organi accessori dell'apparato digerente, tra tutti il fegato e il pancreas. Per darvi un'idea dei numeri delle patologie di cui noi ci occupiamo calcolate che si stima che il 30% di tutte le persone che entrano nel Polichinico Gemelli centrano per patologie dell'apparato digerente, quindi non c'è dubbio una grande branca specialistica molto molto variegata perché ha a che fare con l'acuzia e con la cronicità, con l'infiammazione, con la degenerazione e con l'oncologia. Che cosa abbiamo voluto fare e perché il Gemelli è unico nel panorama non italiano ma nel panorama europeo per questa grandissima propensione a occuparsi di malattie dell'apparato digerente? Solo i numeri. Calcolate che nell'area medicina interna, gastroenterologia e oncologia vi sono all'incirca 230-240 posti letto, ci lavorano più di 100 medici e più di 350 infermieri. È un'area molto molto importante proprio perché deve toccare qualsiasi area della gastroenterologia. A differenza di molte altre strutture noi non abbiamo fatto scelte, non siamo noi che diamo un'offerta formativa a cui si devono adeguare i nostri pazienti, ma noi volendo proprio anche in qualche modo mettere al centro di tutto il percorso la massima personalizzazione delle cure, che ricordiamoci è lo scopo della nostra fondazione, del nostro IRCCS, Istituto di Ricerca e Cura Carattere Scientifico, è quella di personalizzare al massimo il nostro approccio. Cioè noi che cosa abbiamo fatto? Partiamo dai sintomi, che tipo di disturbo ha una persona? Perché ricordatevi che una persona non va in un ospedale perché ha una malattia, una persona va in ospedale perché ha un sintomo, un disturbo. Noi cosa abbiamo fatto? Partendo dei disturbi abbiamo voluto sviluppare tutte quelle patologie che erano a causa di quel disturbo, è un po' un percorso fatto al contrario e questo lo facciamo sia nell'acuzia che nella cronicità. Poi cosa abbiamo sviluppato? Abbiamo sviluppato tutte quelle aree che in qualche modo diciamo adesso sono trendy o vanno di moda, pensiamo alle malattie infiammatorie croniche dell'apparato digerente, pensiamo alle conseguenze dell'epatite C. Io dico vanno di moda perché abbiamo una fortuna in medicina, che esistono aree dove a un certo punto arrivano farmaci nuovi e innovativi. È chiaro che abbiamo sviluppato queste aree, però cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto anche sviluppare quel qualcosa a cui spesso non c'è risposta e cioè abbiamo sviluppato quelle aree della medicina dove non ci sono a volte case farmaceutiche dietro. Abbiamo sviluppato in modo incredibile il mondo delle malattie rare, non c'è nulla generalmente dietro alle malattie rare, ci sono un sacco di singoli pazienti che devono essere presi in carico e quindi se vogliamo fare una carrellata di come si sviluppa il percorso del paziente credo che può essere molto interessante per chi ci sta ascoltando pensare a come è sviluppato il cuore della gastroenterologia della Fondazione Policlinico Gemelli che parte da un luogo fisico che si chiama CEMAD che vuol dire Centro Malattie dell'Apparato digerente o in inglese Digestive Disease Center. Quando voi entrate in questo centro e abbiamo la fortuna di avere un eccesso laterale dall'ospedale, cioè si riesce anche a evitare in qualche modo l'ingresso attraverso la main entrance, l'ingresso principale dell'ospedale, c'è un ingresso laterale sulla sinistra direttamente su strada. Quando voi entrate in questo centro malattie dell'apparato digerente o CEMAD troverete per prima cosa una struttura che si chiama Nutrition Hall e cioè sala d'attesa dedicata alla nutrizione. Questa sala che ha circa 150-200 sedute quindi è confortevole, numero sufficiente di posti in cui sedersi, è dotata in tutte le sue pareti di schermi multimediali, alcuni touchscreen, che mandano in continuazione sia interviste ai medici che lavorano in quella struttura, sia dei filmati educazionali che spiegano ai soggetti perché vengono le patologie dell'apparato digerente e soprattutto spiegano l'importanza di terapie integrate. Questa è un'altra chiave di lettura fondamentale della nostra fondazione e almeno lo è sicuramente per chi si occupa di malattie dell'apparato digerente. Noi non siamo interessati agli organi malati ma siamo interessati alla persona malata e per dire ancora di più siamo interessati al contesto in cui cresce una persona malata e siamo interessati alle modalità con cui quella persona è cresciuta ed è stata educata nei primi dieci anni della vita. Perché? Perché si è vista che tutta la cronicità parte da un qualche cosa che c'è successo nei primi dieci anni di vita, quel qualcosa che si chiama l'imprinting delle fasi post gravidanza o le fasi cosiddette di winning, di svezzamento, di post winning o early childhood, i primi 5, 6, 7 anni di vita ad una persona. Ma uno potrebbe pensare ma cosa c'entra tutto questo con le malattie dell'apparato digerente? Beh, dobbiamo innanzitutto pensare che noi in qualche modo che ci occupiamo di gastroenterologia siamo di fondo anche dei neuropsichiatri dell'apparato digerente o meglio ancora siamo dei neuropsicoimmunologi dell'apparato digerente. Non so quante persone sanno che il sistema immunitario vive quasi tutto in maniera residente nell'apparato digerente proprio perché questo organo lungo 9 metri pieno di tantissime funzioni tra tutte quella digestiva deve proteggerci dagli invasori esterni. Cosa c'è di migliore per un invasore, per un batterio, un virus, un micete dell'apparato digerente? Un organo lungo 9 metri, buio, con un sacco di nutrienti dove tutti i giorni entra acqua e cibo, una zona straordinaria per crescere. Beh, in qualche modo il nostro apparato digerente, il buon Dio, che cosa hanno fatto? Hanno fatto popolare questo apparato digerente di una comunità microbica di oltre un chilo di batteri, miceti e virus, che ci colonizza e lavora con noi tutta la vita. Però qual è il problema? Questo microbiota intestinale è la parte variabile del genoma umano, è quel qualcosa che ci differenzia, che differenzia tutti noi. Noi in Italia siamo identici al 99.99% per quanto riguarda il DNA, ma siamo diversi all'80% per quanto riguarda il DNA di questi batteri che vivono nel nostro apparato digerente. Qui stanno le differenze. E questo microbiota colonizza il bambino nei primi 4-5 anni di vita. Quando? Quando il bambino ha bisogno di geni additivi per sopravvivere. E quindi se il bambino cresce in un contesto difficile, due genitori che litigano in continuazione, un padre violento, magari con problemi di dipendenze, enormi problemi economici che vanno a impattare sulla qualità di vita e sulla felicità di quella famiglia, quel bambino si attrezza con un genoma microbico infiammatorio. Quel genoma microbico infiammatorio non ci abbandonerà mai più. È il cosiddetto core microbiota che è in grado di attivare il nostro sistema immunitario. Se qualcosa ci succede a 20, 25, 30, 35 anni, quel core microbiota è in grado di attivare malattie autoimmuni e in parte è anche in grado di spiazzare il sistema immune che non è più in grado di riconoscere una cellula tumorale in crescita. Quindi in qualche modo la maggioranza delle malattie croniche hanno un imprinting durante i primi anni di vita. Questo è il motivo per cui chi viene al Policlinico Gemelli troverà un team multidisciplinare. Non è un caso che nella nostra area non abbiamo solo grandi clinici dell'apparato digerente, grandi endoscopisti, grandi ecografisti, grandi radiologi, grandi anatomopatologi. Abbiamo due componenti fondamentali della cosiddetta medicina integrativa, lo psicologo e il nutrizionista. Sono quelle due figure che sono in grado di aiutarci a comprendere come capire perché una malattia si è sviluppata. Non troverete mai una colitulcerosa, un morbo di Crohn o una malattia celiaca o anche aree apparentemente non collegate all'apparato digerente. Pensate a una tiroidite autoimmune, a una sclerosi multipla, che non hanno avuto nei mesi precedenti a quella malattia un grande stress psicologico. Quell'attivatore, boom, che attiva il sistema immune che a quel punto comincia ad attaccare se stesso. In qualche modo quello che vogliamo fare, con la nostra miriade di servizi, di attività diagnostiche che utilizzano le attrezzature più avanzate in assoluto, vogliamo prenderci non cura della patologia o del singolo organo, ma vogliamo prenderci cura della persona, personalizzando al massimo le terapie. E come facciamo a personalizzarle al massimo? Beh, innanzitutto credo che abbiamo tra i migliori ragazzi che vi siano in circolazione. Molti sono cresciuti nella nostra straordinaria facoltà di medicina e chirurgia Agostino Gemelli dell'Università Cattolica, altri abbiamo reclutati dall'esterno. Abbiamo in atto una policy di reclutamento dei migliori cervelli che ci sono in circolo. Però quello che tentiamo di fare è di non avere solo dei cervelli sganciati dal malato. Vogliamo dei cervelli dei giovani uomini, delle giovani donne, che siano in grado di prendersi cura delle persone. Prima di tutto, prima di essere grandi medici e grandi tecnologi, devono essere persone vere, persone che sono in grado di prendersi cura dei nostri pazienti. E vi assicuro che questo non è semplice, ma tentiamo di farlo tutti i giorni con, in qualche modo, onestà intellettuale ed etica. Siamo pieni di trial clinici. Abbiamo qualsiasi nuovo device, nuova tecnologia, nuovo farmaco, non ci manca nulla, ma tutto è fatto con la persona al centro. Mai abbiamo utilizzato o accettato un trial con un farmaco che non ritenevamo sicuro. E credo che questo forse è qualcosa che possiamo dare in più. Curare le persone, ma curare innanzitutto in qualche modo il contesto in cui le persone crescono. E tante volte non serve neanche dare dei farmaci, basta dare dei buoni suggerimenti ai nostri pazienti.